Oggi grande giornata, inaugurazione della filiale Dodic di Napoli. Siamo con Alessio Luffarelli, direttore commerciale e marketing Dodic. Quindi grande soddisfazione e anche una bellissima partecipazione. Sì, siamo molto contenti e soddisfatti perché con questa nuova apertura Dodic conta 5 filiali, quindi Frosinone, Latina, Roma Sud e Roma Nord. Dodic Napoli è stata concepita per dare un servizio, una spinta ulteriore sia commerciale che una spinta legata ai servizi, quindi tecnico, logistico e tutto quello che da sempre contraddistingue il servizio Dodic. E nasce appunto per aumentare ulteriormente la presenza Dodic, degli uomini Dodic e del servizio Dodic sulla regione. Ad oggi noi intendiamo una filiale Dodic con tutto quello che riguarda lo showroom, i servizi, la formazione e la parte commerciale ovviamente. La parte di Dodic che secondo noi è il velo valore aggiunto è appunto la competenza e la presenza sul mercato. Ogni nostro collaboratore viene formato in maniera molto attenta prima di entrare a far parte del nostro team. Siamo veramente molto soddisfatti delle persone che al momento collaborano con noi e con le quali stiamo facendo veramente un ottimo lavoro. In quanti siete infatti? Al momento Dodic conta 40 collaboratori, di cui 5 in Campania, quindi sono 5 le persone che collaborano con noi e si occupano di gestire questo territorio che è veramente molto molto interessante e molto vicino alle abitudini che si hanno poi anche nel Lazio e nelle altre regioni a noi vicine. Benissimo. Per quanto riguarda l'offerta delle soluzioni, quali segmenti che offrite particolarmente anche qui a Napoli? Anche qui a Napoli, ripeto, come tutte le altre nostre filiali, offriamo i servizi legati a antitrusione, videosorveglianza, domotica, antincendio e automazione. Questi sono i nostri settori da sempre, sono i settori in cui cerchiamo di dare il massimo perché secondo noi allargare troppo l'offerta diventa disperdere le energie, quindi preferiamo far bene quello che sappiamo fare, senza distogliere troppo l'attenzione. Quindi focalizzazione totale sulla sicurezza, però completa. Assolutamente, non solo. Con il mercato che si sta spostando sempre di più verso la domotica e l'IoT, la nostra idea è quella appunto di abbracciare questo mercato perché crediamo che la soluzione integrata, anche per l'esenziale, sia il futuro nel nostro settore.